Scena da far west a Real Monte. Il 47enne Filippo Nicosia Gonzales avrebbe esploso almeno tre colpi di pistola contro una coppia di compaesani. L'uomo arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento e recluso al carcere Petrusa risponderà del reato di tentato omicidio. Il motivo scatenante dell'ira funesta di Nicosia Gonzales sarebbe stato l'invito dei due coniugi aggrediti ad allontanarsi dopo alcune poco velate richieste corteggianti nei confronti della donna. Tra i tre prima vi è stato un diverbio, poi Filippo Nicosia Gonzales anziché de mordere si è presentato bellicoso in una casa dove la coppia era stata invitata a cena. L'operaio è stato allontanato una seconda volta, poi lui ha atteso i coniugi appena fuori dalla casa e gli ha sparato. E da Real Monte a Catania altra sparatoria. Un assicuratore in pensione ha esploso colpi di fucile nei confronti della moglie e del fratello di lei, ferendo in maniera non grave la donna e centrando al braccio e al fianco l'uomo che è stato ricoverato in ospedale con la prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, l'uomo non andava d'accordo con il cognato, medico in pensione, e contestava alla moglie di non curarsi di lui e di essere più legata al fratello. Durante un incontro in casa ci sarebbe stato un violento scontro e la donna per sicurezza avrebbe chiuso il marito in uno sgabbuzzino. Nello stanzino però l'uomo custodiva un fucile da caccia, legalmente detenuto, che ha utilizzato sparando contro la porta, facendo saltare la serratura e liberandosi. Poi sarebbe salito al secondo pieno dell'abitazione, ha esploso dei colpi prima contro il cognato, poi contro la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania, allertati da telefonate al 112 di vicini di casa della coppia. L'assicuratore è stato arrestato e portato in una casa di cura specializzata in malattie mentali.